ok un saluto a tutti ragazzi siamo sempre il vostro vincenzo tutti ragazzi siamo su da shero anzi questo oggi vorrei parlare di una cosa molto ma molto importante ora ragazzi se ne fondiamo questa possiamo ottenere un'armatura come questa ragazzi poi abbiamo anche queste abbiamo anche queste qui che sono molto forti queste qui anche questo e va bene ragazzi c'è un prossimo sito da shero grazie a tutti